Iranno tutti i correnzi, afferma Paola Taverna. Sarà un anno che una parte di persone stanno cercando di creare un accordo, una corrente all'interno del Movimento 5 Stelle che sia più dialogante con il PD quando non c'è necessità, ma lo si fa in modo scuro e non si fa in modo chiaro. Questo movimento non è un partito, non si può permettere le correnti interne perché noi non possiamo diventare uguali agli altri. Più duri i cosiddetti ortodossi Di Maio e Di Battista che invitano la zavora dei dissidenti a mettersi da parte sono parassiti che dovrebbero dimettersi, non cambiare gruppo. Il Movimento 5 Stelle nasce per cambiare l'Italia. Abbiamo dei principi cardini che sono due mandati, la restituzione dei soldi e il non creare correnti politiche come gli altri partiti. Chi non vuole seguire questa strada può tranquillamente dimettersi.